E quindi mi sono fermato e mi sono detto ma perché? Perché non provare a percorrere una strada diversa da quella per la quale io ne ho studiato per tanti anni all'università? Nome? Salvatore. Cosa fai nella vita? Chi sono? Io sono un ragazzo di 36 anni nato e cresciuto in Abruzzo una terra che amo particolarmente e che rappresenta una delle poche vere costanti della verità Ho trascorso un'infanzia e un'adolescenza molto serene direi come tanti altri ragazzi un percorso universitario lineare mi sono lavorato in ingegneria e a 29 anni mi sono trasferito a Torino dove sono tuttora e dove lavoro come ingegneria in un'azienda in città e a 32 anni ho comprato casa insomma che un aggiornato oggi non è poco anzi insomma un percorso che all'apparenza può sembrare impeccabile solo che diciamo che qualche anno fa mi sono reso conto che all'interno di questo percorso apparentemente perfetto avevo probabilmente trascurato la cosa più importante ovvero me stesso e i miei sogni e le mie passioni e quindi ho iniziato per rispondere alla tua domanda penso di essere un ragazzo con la testa sulle spalle con ambizioni e emotivo e che sta attraversando un periodo di forte cambiamento personale e professionale quale passione guida la tua vita? sicuramente la voglia di esplorare di conoscere, di sperimentare in qualunque contesto che mi trovi se è un contesto legato ai viaggi è ancora meglio se ti dico onda, che cosa pensi? a cosa penso? beh sicuramente penso alla prima volta che ho visto l'oceano era il 2013 in Australia e ricordo una potenza inaudita delle onde che mi ha trasmesso un po' di inquietudine ma allo stesso tempo tanta libertà un senso di libertà che non avevo mai provato e che credo non dimenticero mai la prima onda che ti ha travolto e ha cambiato qualcosa nella tua vita? in realtà ce ne sono state tante di esperienze e di onde ti posso definire delle onde travolgenti che mi hanno segnato il mio percorso di vita probabilmente però l'esperienza in viaggio più significativa che ha dato una svolta veramente a questo mio percorso umano e professionale è stato un viaggio in realtà ma l'apparenza breve diciamo anche abbastanza mainstream se vogliamo ovvero un viaggio 3 anni fa in Giordania con alcune delle persone più importanti della mia vita amici di una vita e oltre ad essere stato importante perché ho condiviso con loro e anche perché ovviamente abbiamo visitato dei posti meravigliosi è stata una svolta perché l'ho vissuto intensamente fin dall'inizio fin dal momento in cui questo viaggio è stato sognato passando poi per la sua progettazione la realizzazione la condivisione dei momenti di questo viaggio fino poi ad arrivare ai ricordi che continuano ancora ad oggi e proprio nel momento in cui mi sono fermato con tutti questi ricordi nella mia testa lì ho capito o se ho percepito una sensazione di benessere importante che avevo percepito anche in altri viaggi ma quella volta fu veramente stravolgente e mi fermai e dissi ok io voglio vivere di questo io voglio vivere di queste emozioni di queste passioni e non due o tre volte l'anno ma nella mia quotidianità e quindi mi ha stravolto e lì è iniziato un po' tutto dove ti ha portato quell'onda? beh dopo quella prima onda travolgente ce ne sono state tante altre diciamo che l'onda mi ha trascinato in una direzione nella direzione che volevo e attraverso tante piccole esperienze e ho iniziato quindi a leggere molto di più e ho iniziato a raccontare tutti i miei viaggi e le mie esperienze attraverso un blog Il Mondo Attraverso inizialmente ho preso veramente come hobby e totalmente per gioco però poi mi sono reso conto che più ne parlavo più raccontavo le mie esperienze e più stavo bene e più mi piaceva e soprattutto ho iniziato a vedere anche un riscontro positivo da parte delle persone che mi leggevano e quindi mi sono fermato e mi sono detto ma perché? perché non provare a percorrere una strada diversa da quella per la quale ero studiato per tanti anni in università e da lì mi sono rimasto a studiare corsi su corsi in particolare uno che è un corso da accompagnatore turistico sono abilitato infatti qualche mese fa e ho iniziato da poco delle bellissime collaborazioni con tour operator agenzie di viaggi e associazioni sia come tour leader quanto come travel designer e quindi spero di continuare questo percorso quindi possiamo dire che quell'onda è stata motivo di riflessione una guida e una spinta al tuo cambiamento? sì sicuramente è stata un'esperienza un'onda importantissima che mi ha direzionato poi verso tutta una serie di esperienze che hanno segnato la mia vita fino ad oggi tutte queste esperienze mi piace definirle come delle piccole ondine che mi hanno trascinato a riva verso i miei obiettivi sono stati tanti momenti di vita tanti viaggi importanti come quello dopo quello in Giordania di cui vi ho parlato l'Islanda ad esempio che è stato il mio primo viaggio che ho raccontato nel mio blog ho anche il viaggio in Africa che è stato totalizzante soprattutto da un punto di vista umano il viaggio l'ho fatto in bicicletta da Torino in Abruzzo l'anno scorso che mi ha insegnato tantissimo cioè che con la fatica, il sudore, il lavoro si è tenuto il risultato e infatti non a caso dopo il viaggio mi sono iscritto al corso per un momento bellissimo che ruolo giocano l'ispirazione e gli esempi nel percorso di chi vuole vivere la propria vita a pieno all'insegna di una mission di una profonda passione e non sa da che parte cominciare? io penso che sì le persone, segnali, guide anche proprio dei personaggi possono essere veramente da ispirazione rappresentare sempre l'onda travolgente per sentire le proprie passioni per cambiare la propria vita penso che però non basti io sono d'accordo penso che non basta essere travolti da queste onde ma bisogna anche avere il coraggio di cavalcarle di seguirle sei stato invitato ad essere partner ufficiale di Honda D perché hai accettato? ho accettato perché è un progetto di gruppo di collaborazione con altre persone come me e altre personalità con cui non vedo l'ora di interagire e poi perché soprattutto è un progetto molto ambizioso che unirà ad aiutare anche altre persone a seguire i propri sogni e le progettazioni e credo anche che aiuterà moltissimo noi stessi che lo animeremo siete pronti? un'onda di contenuti su viaggi a 360 gradi sta per travolgerti un'onda di contenuti sui